Buongiorno, sono Roberto Peia, sono il fondatore di Urban Bike Messenger, la società di Pony Express in bicicletta. Perché sono qua? Per diversi motivi. Il primo perché la fondazione Franceschi come molte altre banche, aziende, onlus, associazioni hanno deciso già da tempo di fare effettuare le loro consegne in Milano invece da furgoni o da rumorosissime e puzzolenti motorini usare invece delle ecologicissime e velocissime bici. La seconda cosa perché abbiamo trovato altri legami. Abbiamo sentito dire prima che la Costituzione è frutto della resistenza di centinaia, migliaia di ragazzi come voi morti per la libertà. La bicicletta nella resistenza ha avuto un ruolo determinante. Se voi andate vicino alla sede della fondazione Franceschi c'è una lapide che ricorda la partigiana Lia, una ragazza giovanissima, incinta, che il 24 aprile del 1945, il giorno prima della liberazione, stava portando in bicicletta i messaggi ai partigiani. I partigiani usavano la bicicletta sempre per portare armi, per portare messaggi, ma non soltanto i partigiani. Probabilmente voi adesso siete abituati alle geste di Valentino o di Eto'o. A quei tempi lo sportivo più famoso, tra gli sportivi più famosi, c'era Gino Bartali, quello famoso nemico di Coppi, la storia della borraccia l'avrete vista. Bartali, nel tubo orizzontale della sella, portava dei messaggi, portava dei documenti che servivano agli ebrei per scappare dalle persecuzioni naziste. Allora questi sono dei legami che abbiamo trovato insieme alla fondazione. Allora le copie di questo libro le porteremo noi in bicicletta. E' un segnale, anche questo. La bicicletta è un mezzo non violento rispetto alla macchina. E' un mezzo di comunicazione, di fratellanza. E' il mezzo più usato dei poveri, in Africa, dappertutto. E se mi concedete c'è anche un motivo personale. Voi ve lo immaginate oggi il divieto di postare su Facebook, su Twitter? Ve lo immaginate? Oh, sveglia, ve lo immaginate? Certo c'è chi fa l'esame della patente, qua ho visto, sveglia un attimo. Allora, vi immaginate non poter comunicare liberamente? Allora io quando ho dato l'esame per diventare giornalista professionista, ho dovuto studiare la Costituzione. E qua, all'articolo 21, c'è scritto che ognuno di noi, che tutti voi, avete il diritto di manifestare le vostre idee, in qualsiasi modo, con la parola, con la carta, oggi con la rete. Quindi, adesso, oggi, quando tornate a casa e accendete il vostro pc, postate, 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 su Twitter, su Facebook, che c'è un nuovo libro, che tutti devono leggere, che è una figata questo libro. Ok? Ciao.